5. Garmin HRM Dual è un cardiofrequenzimetro di alta qualità che soddisfa le esigenze dei più esigenti atleti. Grazie alla tecnologia Bluetooth e Ant+, è possibile connetterlo non solo a orologi Garmin, ma anche a dispositivi di altre marche. La batteria di lunga durata garantisce ore di utilizzo, mentre la fascia regolabile è comoda e leggera da indossare. Tuttavia, va sottolineato che non è adatto all'uso sott'acqua e non presenta funzioni aggiuntive come Activity Tracker o GPS integrato. In sintesi, se sei in cerca di un cardiofrequenzimetro affidabile per il tuo allenamento è sicuramente da prendere in considerazione. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 4. Polar Vante GM è un cardiofrequenzimetro all'avanguardia che offre un'ampia gamma di funzioni progettate per soddisfare le esigenze degli atleti più esigenti. Con oltre 130 profili sportivi tra cui scegliere, è il compagno perfetto per chi pratica una varietà di attività fisiche. Uno dei suoi punti di forza è l'analisi dello sforzo, che ti consente di monitorare la tua prestazione durante l'allenamento e di ricevere feedback in tempo reale. Inoltre, grazie al programma Running Integrato, potrai migliorare la tua resistenza e raggiungere i tuoi obiettivi di corsa. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 3. Questo cardiofrequenzimetro Sigma è un prodotto ricco di funzionalità pensate per gli amanti dello sport e del fitness. Grazie all'integrazione del GPS, è possibile monitorare la distanza percorsa e la velocità, mentre il sensore di frequenza cardiaca fornisce preziose informazioni sullo sforzo fisico durante l'attività. L'orologio è anche impermeabile, quindi perfetto anche per le attività all'aperto sotto la pioggia. Il display retroilluminato facilita la lettura dei dati anche in condizioni di scarsa luminosità. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Numero 2. Il cardiofrequenzimetro Polarignite è un prodotto rivoluzionario che unisce tecnologia e precisione per aiutare gli appassionati di sport a raggiungere i propri obiettivi di allenamento. Con il suo display touch a colori e i 100 profili sport disponibili, è l'accessorio perfetto per chi vuole tenere sotto controllo i propri progressi in maniera facile e intuitiva. Grazie al peso leggero di soli 35 grammi e al design elegante, può essere indossato tutto il giorno senza risultare scomodo. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. Numero 1. Polar H10 è un cardiofrequenzimetro di alta qualità che offre una precisione impeccabile nella misurazione della frequenza cardiaca. Grazie alla sua compatibilità con dispositivi e app, è possibile monitorare i propri dati in tempo reale durante qualsiasi attività sportiva, sia indoor che outdoor. La fascia elastica, comoda e stabile, garantisce un indossamento confortevole durante l'allenamento. Dotato di funzionalità come il tracker di attività e la memoria dei dati, questo prodotto è adatto a tutti gli sportivi che desiderano tenere sempre sotto controllo la propria salute e prestazione. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione.